Buongiorno Crotone, sono riprese le visite al centro storico della nostra città e questo è il biglietto da visita. Una discarica a cielo aperto, una discarica con ingombranti che danno proprio un segnale di quell'indifferenza e di quella mancanza di civiltà che noi registriamo sempre di più. È pensabile tutto questo? Assolutamente no, perché se arriva qualche turista e visita il centro storico ma anche altre zone della città dove emerge la bellezza e la storia di Crotone ci sembra che questo sia un segnale talmente negativo da far pensare che Crotone è veramente una città in cui il senso civico non esiste. Basta fare un giro nelle zone più belle di Crotone e troviamo questi, i rifiuti ingombranti. Abbiamo provato a sensibilizzare i crotonesi con le isole ecologiche facendo capire che c'è spazio per lasciare questi rifiuti ingombranti e che sono aperte tutta la settimana ma questo non serve perché come al solito i furbetti ci sono e ritengono di essere padroni della città e di dover dare questa immagine della nostra Crotone. Crotone dunque discarica a cielo aperto per i rifiuti ingombranti. Buongiorno Crotone.